Vai. Questa che ero piccola, qua avevo dieci anni, guarda qua, questa qua io, ecco così si vede, sì, ok? Questa foto qua, l'amica di mia madre la mandò a Grazia. Sì, sono stata premiata tra i dieci bambini più simpatici d'Italia, sono andata a Sanremo, piccolina, dieci anni, accompagnata da mia madre, ho vinto il televisore Admiral, che era il primo televisore che allora c'era, che era appena uscita la televisione, senti, e quella foto, questa qua, è bellissima quella foto, è bellissima, sì, negli anni 50, nel 52, in quell'epoca lì più o meno, sì, 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 e lì somiglio molto adesso, da morire, in questa foto, qui sì, somiglio, eh? Da morire un sacco? Sì, sì, si vede, che sono io, qua vedete ho dieci, ho nove anni, guarda, ecco perché i bimbi, e allora mi viene, quello lì ecco, è una cosa dell'infanzia che mi ha fatto effetto, perché, mi sono vista pubblicata su Grazia, la mia foto, l'ha mandata l'amica di mia madre senza dirglielo, e pensare che ti vanno a seguire? No, ma sì, tra dieci bambini più simpatici d'Italia, oh, funzionano, eh? No, ma sì.